ciao a tutti buongiorno a tutti allora sono faccio questo video perché ho preso spunto da un bellissimo video della mia amica chanel del canale chanel uncensored ve lo lascio giù nell'info box il video così lo andate a guardare e ho deciso di fare questo video perché la mia amica chanel appunto si è interessata di un nuovo fenomeno scusate se vedete il riverbero di una luce non solo adesso viene da dietro ma viene anche davanti perché ho il tablet ho scritto i nomi delle sostanze perché a memoria non riesco a pronunciarli quindi le ho scritti ci sono tre sostanze che devo nominare siccome sono nomi molto complicati me li sono scritti così facciamo prima di cosa parlava il video della mia amica parlava della nuova moda di alcuni influencer non voglio affibbiare gli epiteti offensivi perché ne avrei molta voglia ma non lo faccio che dicono che non bisogna più utilizzare la protezione solare perché la protezione solare è pericolosa mi verrebbero voglia di dire un sacco di parolacce però non le dico perché sono una signora cosa dicono queste persone queste persone sostengono che la protezione solare sia pericolosa non si sa bene per quale motivo perché è tutto il contrario però adesso ci arriviamo cosa sono i raggi UVA e UVB i raggi UVA e UVB sono quelli prevalentemente UVA sono prodotti tutto l'anno quindi il sole irradia questi raggi tutto l'anno e invece in estate nelle stagioni quindi più calde da aprile maggio fino a settembre ottobre anche novembre vengono irradiati anche i raggi UVB che sono quelli più caldi che vengono prodotti appunto nei mesi più caldi cosa fanno i raggi solari? il sole fa bene perché il sole fa bene ragazzi sintetizza la vitamina D nelle ossa in più fa produrre al cervello tante sostanze che fanno bene al benessere del fisico in più previene un'altra serie di malattie tipo lo scorbuto non so se conoscete lo scorbuto era una malattia che era più frequente negli anni passati e nei paesi purtroppo poveri dove c'è poca assunzione di frutta e verdura però il sole è una delle sostanze passatemi il termine che aiuta a combattere questa malattia il sole è molto importante sia per un benessere fisico quindi per l'assorbimento della vitamina D sia per un benessere psicologico perché aiuta a liberare le endorfine del nostro cervello che ci mantengono di buon umore però bisogna prendere il sole con una serie di precauzioni perché il sole purtroppo è malato e questa è una cosa che tutti sanno l'atmosfera purtroppo a causa dell'inquinamento non ci protegge più come ci proteggeva un tempo dai raggi UVA e UVB quindi cosa dobbiamo fare per proteggerci da tutte le conseguenze dei raggi solari? usare la protezione solare allora la protezione solare è di due tipi fondamentalmente sono filtro fisico e filtro chimico il filtro fisico è quello che pone sulla pelle una barriera fisica quindi ossido di zinco, ossido di titanio, biossido di zinco, biossido di titanio sono tutte quelle sostanze fisiche che proprio pongono una barriera fisica sulla pelle quello fanno fisicamente proprio impediscono, riflettono i raggi del sole infatti se usate un filtro solare chimico scusate fisico vedete che la pelle diventa improvvisamente più bianca quasi tutti i prodotti solari bio sono a filtro fisico perché utilizzano appunto questa barriera fisica che vi fa riflettere i raggi solari come uno specchio il problema però qual è? che sono molto pesanti non vanno bene per i microorganismi nel mare e vi sbiancano quindi se voi lo usate per andare al mare vabbè ok avete questa pelle molto bianca sono molto pesanti molto materici come protezioni solari sono molto efficaci quello sì però purtroppo hanno una serie di inconvenienti della serie che è diventato un fantasmino per esempio quando vi truccate è più indicato mettere un filtro chimico perché sono molto più leggere le creme solari al filtro chimico si assorvono più in fretta e non vi sbiancano quindi non avete l'effetto biancume tipico del filtro chimico e fisico quindi sono tutte quelle creme solari che pongono proprio un filtro fisico tra voi e il raggio invece cos'è il filtro chimico? il filtro chimico non è altro che una molecola che aiuta ad assorbire il raggio V a proteggere la pelle dall'effetto dannoso del raggio V e a liberare il calore quindi funziona per reazione chimica lo dice la parola stessa quali sono le migliori creme solari? non c'è una migliore crema solare nel senso che sono cose personali personalmente io preferisco utilizzare una crema solare ibrida che usa, sfrutta sia il filtro fisico che quello chimico in concentrazioni regolamentate che mi permettono di avere sì una crema protettiva ma una crema protettiva leggera per esempio io ne ho due qua ve le faccio vedere che sono quelle che sto utilizzando per adesso questa è quella della Biore la UV Protection che ho comprato da YesStyle che uso quando mi trucco perché è leggera si assorbe subito non mi lascia scia bianca e non mi sbianca il viso anche se a me non importa molto nel senso io sono bianca di mio guardate che colore ho e sono abbronzata perché comunque le braccia io ce le ho sempre più abbronzate rispetto al resto del corpo perché? perché a maniche corte sono fuori anche se in questo periodo fanno 12-13 gradi quindi chissà abbronza questa è una crema solare all'acqua viene chiamata all'acqua perché ovviamente è molto leggera ed è un filtro chimico questo è un filtro chimico questa di Sien che è lo spray quello per bambini ma in realtà lo possono usare anche gli adulti questo è un filtro misto sia fisico che chimico e io con questa mi trovo bene e lo utilizzo quando non devo uscire me la spruzzo la spalmo e via è spray vedete è spray è molto molto comoda perché la spruzzo la spalmo e via quando devo andare in giardino quindi me la metto sulle parti scoperte ovviamente perché sulle parti coperte non avrebbe senso le creme solari si distinguono in bassa media e alta protezione a breve il 50 più 20 30 verrà abolito perché non ha senso esistono tre gradi di protezione solare bassa media e alta se avete la pelle chiara come la mia è meglio ed è più utile utilizzare una protezione alta quindi 50 più c'è anche la 100 per esempio l'ISDN che è ISDN non so come si dice ha la 100 che io ho utilizzato l'anno scorso e che dovrei continuare a utilizzare e dovrei ricomprare perché con la terapia ormonale che sto facendo mi riempio di macchie con questa qua quindi c'è la la protezione anche 100 che è la massima però ben presto questo 50 20 15 verranno abolite ci sarà solo il divisa la suddivisione in tre bassa media e alta questa è alta questa è alta quindi sono 50 e 50 io non compro meno di 50 perché avendo pelle appunto chiara la il consiglio il suggerimento sono da utilizzare soltanto le creme con protezione alta chi deve utilizzare la protezione solare media chi ha un fototipo scuro quindi olivastro o comunque tendente alla pelle più scura chi deve utilizzare una protezione solare a bassa le persone molto scure quindi e non è vero che chi è di colore per esempio non deve utilizzare la protezione solare perché non è così non è così le persone per esempio molto scure di carnagione devono comunque utilizzare la protezione solare perché il sole i raggi fanno male lo stesso anche se avete una alta concentrazione di melanina i raggi solari fanno male lo stesso quindi se avete la pelle molto scura utilizzate una protezione solare bassa 15-20 se avete una carnagione chiara come la mia dovete utilizzare una protezione solare alta perché altrimenti le scottature che vi prendete non ve le dimenticate più chi mi dice ma io con la protezione solare non mi abbronzo non è vero non è vero assolutamente vi abbronzate più dolcemente quindi non vi scottate che è la cosa più sbagliata perché la scottatura solare può essere molto pericolosa perché comunque il sole invecchia la pelle se voi prendete una scottatura non è una cosa piacevole è un trauma per la vostra pelle è comunque un ustione raga è comunque un ustione quindi evitate di prendere le scottature vi abbronzate lo stesso più dolcemente ma vi abbronzate lo stesso ci impiegate più tempo ma lo fate in sicurezza perché le scottature solari sono molto pericolose sia perché possono causare il colpo di calore sia perché possono causare bolle macchie solari melanoma tutti i cancro il cancro della pelle ragazzi soprattutto se avete nei fate molta attenzione per esempio io ho alcuni nei sul viso io tendo a proteggerli quando esco oltre a mettere questa io ho uno stick solare che in questo momento non ho sotto mano perché ce l'ho in borsa io ho uno stick solare che metto sul trucco ed è proprio adatto perché la protezione solare va rinnovata almeno ogni due ore quindi io mi trucco esco ma se sto fuori a lungo e sono sotto il sole o sto camminando ogni tanto mi metto questa protezione solare trasparente uno stick trasparente non mi rovina il trucco assolutamente va a proteggere ulteriormente la pelle se siete al mare la protezione solare ogni ora se vi fate il bagno applicatela nuovamente perché raga è molto 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 pericoloso molto pericoloso io ve lo vi suggerisco ogni ora quindi riapplicate la protezione solare ogni ora e ogni volta che vi fate il bagno vi fate il bagno protezione solare le malattie della pelle non sono uno scherzo il il melanoma basocellulare a cellule squamose tutti i tipi di melanoma sono molto pericolosi raga è molto molto pericolosa e soprattutto possono essere mortali quindi non prendiamo alla leggera il le malattie che può portare il sole oltre a invecchiere la pelle cioè raga il sole il fotoinvecchiamento e poi è inutile che vi comprate la crema antirughe se poi vi prendete il sole senza protezione perché il sole invecchia la pelle io quando ero ragazzina facevo delle pazzie assurde tipo mettermi sotto il sole con l'olio monoide e la Yves Rocher o con addirittura con l'olio Johnson cioè io ho fatto di quelle pazzie e le ho pagate perché io sono piena di macchie sulla parte inferiore dell'addome sono piena di macchie perché perché il sole mi ha macchiato la pelle non prendo più sole io raga se vado al mare mi metto all'ombra non vado al mare non ci vado mai però se vado al mare mi metto all'ombra io non prendo più sole lo prendo quando esco col cappello con la protezione solare però di star lì con una lucertola non lo faccio non lo faccio quindi protezione solare sì assolutamente sì scegliete poi quale volete filtro fisico filtro chimico non importa potete scegliere quella che volete non importa assolutamente però ci sono tre ingredienti che dovreste evitare nelle protezioni solare con filtro chimico tre ingredienti che diciamo io per esempio li evito le evito nelle creme solari mi vado a cercare tra gli ingredienti e cerco di evitare queste tre queste tre componenti adesso ve le leggo perché sono un po' difficili da ricordare in memoria e ve le leggo il benzofenone che cos'è il benzofenone il benzofenone è un filtro chimico che diciamo non è propriamente tossico non è non è cancerogeno come hanno detto non è pericoloso però si può utilizzare perché infatti l'Europa non lo ha vietato nelle protezioni solare però può succedere se se ne usa un eccesso quindi se c'è troppo benzofenone che possono sussistere delle alterazioni ormonali per cui se potete evitare evitatelo personalmente io se lo leggo tra gli ingredienti delle creme solari non lo acquisto non le acquisto in più purtroppo può rappresentare un problema anche per la fauna marina coragli pesci è uno di quei filtri che non mi entusiasma ecco quindi io non lo utilizzo l'altro è l'octocrilene stessa cosa stessi problemi per i coragli per i pesci per le per le gli animali quindi tutta la flora e la fauna marina ecco però a lungo termine l'octocrilene può essere dannoso per la pelle quindi se lo trovate nel crema solare evitatelo è buono perché contiene vitamina E antiossidante però io lo evito se posso e poi l'ultimo l'ultimo è l'octinoxate che sempre per i sempre per gli organismi del mare quindi pesci e coragli e compagnia può essere pericoloso dannoso e deve essere utilizzato una concentrazione ben precisa perché altrimenti non è considerato sicuro quindi se io lo leggo non lo prendo il solare evito di prendere questi tre ingredienti non ci devono essere personalmente sono concessi perché a una determinata concentrazione sono concessi però personalmente io li evito quindi se li leggo tra gli ingredienti dei solari io i solari non li acquisto ci sono altre mille mila solari che potete comprare che non contengono questi tre prodotti quindi nessun problema ingredienti naturali quindi tutti quei prodotti naturali che possono essere l'aloe vera ci aiutano a avere un solare più idratante per esempio per esempio ci sono linee solari fantastiche come quelle dell'equilibra che contiene l'aloe vera sono bellissime come linee e prevalentemente quelle utilizzano filtro fisico quindi biossido di titanio biossido di zinco che però sbiancano molto se devo andare al mare o devo andare a lavorare in giardino non me ne può frega di meno me lo metto tanto mi sbianca chi se ne frega ma se devo uscire preferisco prendere qualcosa del genere che è leggero non mi crea scia bianca e quindi mi posso truccare tranquillamente bene spero di essere stata utile con questo video non date retta a questi guru fuffa guru che vi dicono non utilizzate la protezione solare perché la protezione solare fa ma non è vero raga non è vero assolutamente anzi il contrario la protezione solare è molto importante molto importante perché vi evita una serie di problemi tra i quali il cancro della pelle l'invecchiamento il fotoinvecchiamento le ustioni solari che non sono uno scherzo non sono uno scherzo i eritemi solari che non vi dico quanto sono fastidiosi quindi sole sì ma con attenzione cura e protezione solare vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao